ciao ragazzi allora vi faccio vedere un po il performance un pochettino più da vicino guardate il giallo fluo voglio indossarlo per voi vi ricordo sempre possibilità di elastico o non questo è il yellow guardate sempre 4 mm una morbidezza impressionante lo indosciamo lo indosso proprio per voi ora in questo momento voilà performance giallo 4 mm di lattice una morbidezza assurda ragazzi e qua guardate nell'altra mano indossiamo il performance orange ricordo sempre abbinato l'elastico se vuoi usarlo con o senza quindi inseriamo anche nell'altra mano l'orange performance questa è sempre una taglia 11 usate ma poi braccialetti nell'altra mano quindi fanno un po più di fatica però ragazzi guardate che meraviglia di presa un palmo colore del giallo del del guanto palmo colore del guanto i performance solo esclusivamente in accademia il design stefano pardini adp performance seguite adp gloves su instagram e l'accademia del portiere sempre su instagram e seguiti i social stefano pardini ricordo che se vi iscrivete al canale youtube accademia il portiere lì potete vedere tutti gli allenamenti di accademia volete vedere un altro quanto aspettami e arrivo modello black and white di performance avrò sempre con voi in questo momento indossiamo una 11 sinistra come ho detto a tutti ormai sapete che l'elastico lo puoi usare o no in tutti il video in continuazione ma semplicemente perché perché è importante sapere la dimensione di quello che si vuole quando si fa questo ruolo quindi il performance black and white ricordatevi la lunghezza del polso sentite questo rumore questa è la il palmo taglio negative 4 mm di spessore guardate che meraviglia di quanto volete vederlo con l'elastico mettono elastico allora forza per voi guardate si aggancia e si chiude la dimensione che vuoi con adp scritto potete metterlo come volete volete metterlo più forte potete metterlo potete stringerlo anche più forte adesso stringerlo più forte comporta un qualcosa di però comunque sia potete gestirlo un po come volete chiaro adp performance in tutte le colorazioni non ho fatto vedere rosso e nero non vi ho fatto vedere l'altro colore meraviglioso quindi mi aspetto seguite tutti i social adp performance volete vedere anche long ancora mi faccio vedere anche il long ecco il long giallo rosso il verde poi c'è il white eagle quello dedicato alla lazio cioè il bianco e nero e provo una dai ne avrò uno per voi anche del long vi apre il giallo fluo usiamo sempre la mancina perché ho i braccialetti long taglia 11 della mia quindi ricordo che tutti quanti sia il performance che il long partono dalla taglia 4 per i più piccoli guardate che quanto ragazzi guardate che spettacola anche questo solito discorso con o senza inseriamo il long anche per voi in questo momento calza a pennello a pennello guardate long giallo fluo stesso discorso guardate il quattro millimetri di spessore il design è completamente diverso rispetto al performance è un pochettino più aderente rispetto al performance il performance l'ho fatto leggermente più morbido come guanto questo invece per chi ama proprio il guanto aderente guardate qua adp long ragazzi contattatemi cosa aspettate mi trovate ovunque sperisco in tutta italia not just the game e seguite accademia del portiere